Da Cagliari, qui accanto a me il match winner della partita, Langella, entrato nella ripresa al posto di Del Nevo con un gran tiro da fuori a 38esimo a 7 minuti dalla fine, ha risolto una partita che sembrava stregata. Come è nato questo gol, Langella? Ma niente, ho visto la palla che mi arrivava addosso, l'ho soppata e di prima ho cercato il tiro in porta. Sono fortunato perché la palla è andata proprio a parte più lontana del portiere, non ci è arrivata per niente, quindi sono stato anche un po' fortunato. Partita stregata, questa è assolutamente straordinaria, lo vedremo nelle immagini che abbiamo finito di montare un attimo fa. Possiamo cominciare a vederle. Nel primo tempo è il Cagliari che si spinge in avanti per cercare di risolvere immediatamente questa partita. Qui è la Macchi che viene espulso per somma di ammonizioni. Pensate che nei primi 12 minuti i tre calciatori del Como vengono ammoniti perché non riescono a contenere le sfuriate in attacco del Cagliari. Qui c'è il primo dei pali colpiti dal Cagliari, Brambilla, vedete Ferron come si salva. E poi al 27esimo in un'azione di Suazzo che entra in area dopo un dribbling molto stretto colpisce il secondo palo, questa volta alla destra di Ferron. Bene, dopo questi due pali è invece il Como che nonostante sia in 10 passa in vantaggio. Vedete Carparelli al centro dell'area, si gira con una deviazione di un difensore, ci è sembrato modesto, e Pantanelli è battuto. Il Cagliari si rilancia immediatamente per pareggiare ed è esposito, servito da Beicon velocemente, a portare per la prima volta in pareggio le due squadre. E come vedete poi c'è il tentativo di Del Nevo che viene stroncato da Ferron, bravissimo portiere, che ha evitato al Como una punizione più dura. Lì avete visto Esposito che sbaglia e poi è ancora il Como. Carparelli servito da Rastelli a portare in vantaggio Ilariani. Vi ricordo che il Como è ancora in 10 uomini contro 11. Qui Esposito sbaglia ancora una volta la palla del pareggio, ma non sbaglia questa seconda volta servito da Agostini e Ferrone è battuto. Qui siamo sul 2-2 e siamo al diciannovesimo della ripresa. È entrato già in campo Langella, vi dicevo, al posto di Del Nevo. Dieci minuti dopo quest'azione, anzi scusate, nove minuti dopo quest'azione, Langella metterà a segno il gol vincente. Noi siamo in attesa dei due tecnici che sono alle prese con le interviste di rito nel dopo partita. Contiamo di richiedervi la linea successivamente. Un ultimo giudizio all'Angella. Il Cagliari si è ritrovato finalmente oppure è ancora alle prese con la crisi delle ultime partite? No, io credo che oggi il Cagliari si sia ritrovato soprattutto perché venivamo a un periodo e non riuscivamo a fare gol. Oggi ne abbiamo fatto tre, ne potevamo fare credo altre tre o quattro. Quindi credo che quello siano riusciti a riprenderlo, ci mancava un po' il gol. E adesso continuiamo su questa strada e andiamo a Venezia.